Salve a tutti e grazie di essere qui. Spero davvero tanto che questo video non venga caricato con una risoluzione che ricorda tanto i primi anni, 2000, come è successo inspiegabilmente per lo scorso, anche perché vorrei parlare di un argomento abbastanza delicato. Infatti oggi parliamo di agonismo e bodybuilding. Infatti sulle gare di bodybuilding girano ancora tanti miti, leggende. Le persone che gareggiano, che hanno gareggiato, spesso si sentono un po' come Dio in terra, quando invece l'agonismo, le gare, le competizioni sono soltanto la ciliegina sulla torta, che se messa in cima arricchisce il tutto, ma la sola ciliegina senza la torta sotto, direi che non fa lo stesso effetto. Quando potrò gareggiare? Questa è una domanda che in molti si pongono, che io cambierei con quando vorrò gareggiare. Infatti sì, la componente fisica è alla base del giudizio, ci si mette a nudo, anzi mutande, davanti a una giuria, davanti a un pubblico e si viene giudicati per ciò che si è. I giudici infatti non sanno nulla del nostro percorso, da quanto tempo ci alleniamo, qual era la nostra situazione precedente, magari portiamo sul palco una condizione non proprio eccellente, ma il percorso che abbiamo fatto invece lo è stato, magari partivamo da una condizione di estrema magrezza o di forte sovrappeso. I giudici, questo non lo sanno, a loro non interessa, ci giudicano per quello che siamo in quel momento. La prima gara comunque è sempre un'esperienza, è un checkpoint che andiamo a fissare, sul quale lavoreremo nelle stagioni agonistiche a seguire, oppure decidiamo che è qualcosa che non fa per noi, non ci piace e quindi ci dedichiamo unicamente all'allenamento. In questo video però voglio parlare di quelli che generalmente sono gli errori più frequenti, i miti e le leggende varie che circondano il mondo dell'agonismo. Logicamente si tratta del mio punto di vista, in conseguenza prendete tutto con le pinze, vorrei farvi soltanto riflettere su alcuni punti, ed il primo è sicuramente la durata di una preparazione. direi che i canonici due o tre mesi spesso non sono sufficienti per raggiungere una giusta condizione, una condizione che da natural spesso richiede diversi sacrifici, anche e soprattutto a livello della massa muscolare, infatti in un percorso di dimagrimento si perde veramente tanto, si diventa un po' secchi, tra virgolette, come vengono abitati coloro che davvero affrontano un percorso di definizione improntato al raggiungimento della massima condizione. Però generalmente sono quei secchi che si portano a casa il primo premio, in quanto una condizione molto spinta è generalmente ben vista nelle gare natural, è un po' un controsenso, lo so, io stesso preferisco dei ventri più pieni, più rotondità e meno striature e vene, però i criteri di valutazione spesso non mi danno ragione, non danno ragione a questa visione delle cose. Poi contate che ogni dettaglio viene esaltato fortemente dalle luci del palco, dal colorante, dall'olio, quindi per raggiungere un tale livello di dettaglio spesso ci vuole veramente tanto tempo. Il mio consiglio è, soprattutto in relazione alla prima competizione, di prendersela veramente con calma. Qui in video state vedendo due ragazzi che faranno a breve la loro prima esperienza agonistica, che sono a dieta da un po'. Infatti anche io, in tutte le esperienze passate, non ho mai affrontato una preparazione di durata inferiore ai sei mesi, quindi dalle 20 alle 24, 25 settimane circa. Questo perché? Perché da modo di arrivare con tutta calma e con il dovuto anticipo rispetto alla data della gara, di contrastare eventuali imprevisti di percorso che spesso sono molto frequenti, e anche di ricominciare a salire un pochettino con le calorie in visione della competizione. Infatti non si arriva così impicchiata ad una gara, ma c'è sempre una leggera risalita che fa bene al fisico, al corpo, dona quella maggior pienezza senza poi scendere a compromessi con il livello di dettaglio. Quindi il primo punto è sicuramente quello di prendersela con calma, e questo vale anche per coloro che sono molto portati al raggiungimento di una buona condizione, di una buona definizione, perché in quel caso la problematica principale e grande è la perdita di massa magra. Alcuni fanno veramente tanta 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 fatica a tirarsi, però effettivamente sono quelli che perdono meno tessuto, al contrario quelli che dimagriscono in fretta, perdono sì grasso, arrivano sì in condizione con molto anticipo, ma sono anche soggetti a perdere veramente tanti muscoli nel processo. Quindi in quei casi va trattato con la dovuta calma il soggetto e il suo percorso. E sempre in relazione alla gestione del deficit calorico, la grande problematica che spinge tanti atleti a strafogarsi come non ci fosse un domani dopo una competizione è proprio l'errata concezione della dieta pre-gara. Quindi riso e merluzzo per settimane, quando va bene, quando va male soltanto merluzzo, allenamenti fortemente metabolici, cardio mattina e sera, zero carboidrati e così via. E se la gestione del cardio e degli allenamenti la vedremo poi, quella della dieta invece la affronteremo in questo punto. Una dieta che porta a una competizione deve essere quanto più sostenibile possibile, soprattutto in concomitanza di un forte deficit. Cosa significa? Significa che non ci sono cibi che spestiscono la pelle. Io sono certo che lì c'è qualcuno che non mangia lo yogurt perché va a venire la cotena. Eccolo, eccolo lì. La dieta deve essere sopportabile soprattutto se si parla di preparazioni lunghe, quindi non mi starei a preoccupare troppo della scelta degli alimenti, purché siano fonti qualitative, perché l'If Fit Your Macros ha torte e gelati, non è nient'altro che un ulteriore estremismo che si contrappone alle diete ketogeniche e zero carboidrati. Quindi, fonti qualitative, ma una gestione flessibile dei pasti, molto flessibile soprattutto in relazione a quello che è il proprio stile di vita, la propria attività lavorativa, non ci si deve obliterare per una competizione, non si deve rinunciare a uscire per dieci settimane soltanto perché si ha paura di mangiare qualcosa di diverso. Ragazzi, anche in un ristorante, in un pub, basta chiedere, ci si può sempre organizzare per mangiare qualcosina di pulito e per non diventare eremiti della montagna. E il grande paradosso è che chi promuove queste diete da bro, come si sente spesso dire, quindi riso, broccoli, pollo, merluso, spesso non ha la minima idea di quante calorie assume giornalmente. Il terzo punto è legato all'allenamento. Quanti di voi hanno fatto superset, jumpset, circuiti per dimagrire durante le fasi di cut? Ebbene, vi dico che allenamenti del genere hanno necessità di un bel introito calorico, ma soprattutto glucidico, per essere sopportati adeguatamente. In una fase di cut, soprattutto molto spinto, il volume dovrebbe essere estremamente contenuto. Gli allenamenti devono essere duri, e per essere duri non possono essere quantitativamente eccessivi. Il volume va contenuto, magari si può aumentare la frequenza, quindi si può allenare più giorni, ma con sessioni relativamente brevi. Questa è la cosa che rende di più. Soprattutto se si è in grado di sprigionare una buona intensità durante la sessione. Per quelli che non sono in grado di farlo, invece vale la pena sicuramente tenere il volume un po' più alto, ma deve essere comunque contestualizzato al soggetto. L'allenamento con i pesi, anche se strutturato in circuiti superset e jamset, non brucia così tanto, e questo vi farà fare grandi passi indietro sulla percentuale di carico utilizzata. Quindi vi ritroverete a giocare con dei pesetti in un contesto di forte restrizione calorica, sentirvi sempre svuotati e morbidi. Inoltre, sempre in relazione all'allenamento, si parla spesso di cura del dettaglio, quindi di far uscire dei dettagli particolari in un contesto pre-gara. Ma il dettaglio, a mio parere, si cura più nell'off-season che nel pre-contest. Curare il dettaglio significa sviluppare adeguatamente la muscolatura. Per far emergere invece la fibra vera, per far vedere il dettaglio su base muscolare, si deve fare la dieta, né più né meno. Importantissimi anche gli esercizi di base in questo contesto. Magari si può giocare un po' con l'intensità, con il volume, in quanto nelle fasi avanzate di una preparazione si diventa molto fragili, si è più esposti all'infortunio, ma sono esercizi importanti per quale motivo? Perché permettono di gestire grandi carichi e di stimolare anche più masse muscolari con un solo movimento. Quindi sono esercizi tutto sommato economici sotto questo punto di vista, che vale la pena, a mio parere, tenere il più a lungo possibile. Altro grande mito è caratterizzato dall'inserimento forzato del cardio in una fase di preparazione agonistica. Io non sono contro il cardio, assolutamente. Io credo che sia una discreta risorsa, ma va sempre contestualizzato. Quando si parla di raggiungimento di una certa definizione muscolare, in ballo c'è un bilancio. Quindi ci sono le entrate energetiche, quelle costituite dal cibo assunto con la dieta, e poi ci sono le uscite. Quindi c'è il knit, c'è le spese energetiche che abbiamo durante l'allenamento con i pesi, c'è il metabolismo basale, ci sono diverse fonti di output. Il cardio cosa permette di fare? Permette di aumentare questo output senza dover tagliare necessariamente dalla dieta. Quindi in un contesto di restrizione, inserire il cardio può essere di aiuto per il mantenimento del livello calorico, ma non deve essere visto come una fonte di accelerazione a ogni costo del raggiungimento della condizione. Infatti spesso viene inserito in quelle preparazioni breve e nei classici tre mesi per rimediare a una forma che spesso tende ad uscire soltanto nelle ultime settimane. Quindi è un accelerare, accelerare del processo. Il cardio è utile per evitare di tagliare sulla dieta. Se una persona ha già un buon knit, quindi si muove tanto durante l'arco della giornata, potrebbe non averne assolutamente bisogno. Se una persona si muove poco, necessariamente c'è bisogno di tagliare sui nutrienti e quindi di conseguenza inserire un po' di cardio è a suo beneficio per evitare di ridursi a mangiare veramente poco. L'ultimo punto che voglio toccare, senza dilungarmi troppo, per evitare che il video diventi eccessivamente pesante, anche se ho inserito all'interno un po' di spezzoni di allenamento fatti con i ragazzi la settimana scorsa, voglio proprio parlare delle strategie pre-gara. In quanti hanno sentito parlare di ricarica sbagliata? La gara è andata male perché ho sbagliato la ricarica. Oppure di quelle strategie che vedono protagonisti sodio, potassio, liquidi? Se ne sentono tante, insomma, se ne sentono veramente tante. Giocare con i carboidrati, con il sale, con l'acqua è un modo per mandare a quel paese tanti mesi, tanti mesi di sforzi. Perché si gioca con l'acqua, con il sale, si fanno forti ricariche di carboidrati? Si fa perché si cerca di ottenere un ulteriore vantaggio nella condizione, rischiando di rovinarla del tutto, oppure per rimediare a una condizione non ottimale. Quando si dice che si era un po' appannati sul palco, che si aveva quel velo d'acqua, molto spesso si parla di grasso, non di acqua. Serviva qualche altra settimana di dieta e non l'inserimento di qualche strategia specifica. Spesso, infatti, questo è un modo per rovinare tanti mesi di sacrifici. Il corpo non si sa come può reagire, soprattutto in condizioni di forte stress. E io direi perché farlo, perché tentare? Se le cose vanno bene, se si arrivano con due o tre settimane di anticipo rispetto alla data della gara, essenzialmente non bisogna fare altro che aspettare e monitorare la condizione. L'inserimento di queste strategie, di scarico di liquidi, inserimento di carboidrati, spesso porta a una rovinosa condizione sul palco. È una cosa che andrebbe assolutamente evitata. Cosa che, tra l'altro, ho provato sulla mia pelle. La prima preparazione è andata bene o male così. Quindi per due mesi carboidrati ai minimi storici e poi gli ultimi tre giorni classici via su con i carboidrati fino ad arrivare sul palco con l'Avanza. 1. Giocare di anticipo ed evitare corse disperate verso l'obiettivo. 2. Allenamenti quanto più possibili intensi e brevi, se necessario, frequenti, non potendo contare su un giusto intake calorico e sull'impossibilità di recuperare completamente dalla sessione. Non stiamo costruendo, stiamo cercando di evitare che i muscoli vengano persi. 3. Gestione dello stress, quindi una dieta ragionata e flessibile. E con flessibile no, non mi riferisco a mangiare Smarties. 4. Cardio come possibilità di un aumento dell'output energetico. E quindi come risparmio delle calorie sulla dieta. Non solo come una possibilità di velocizzare la condizione. 5. Discorso circolare. Di nuovo, giocate di anticipo. Non vi riducete a inserire strategie strane dell'ultimo momento perché non funzionano o se funzionano sono comunque un azzardo. Se avete lavorato duro per mesi e mesi e mesi, perché ridurre tutto, affidare tutto il vostro lavoro a una strategia dell'ultimo minuto? Io l'ho già fatto e me ne pento. Ragazzi, spero che il video sia stato di vostro gradimento. Se vorrete fare questa esperienza sul palco, lavorate duro, date il massimo e prendetela come tale. È un'esperienza, è una tappa di percorso, non è l'arrivo, non è il fine ultimo, non è una questione di vita o di morte. Tutti ad allenarsi guardando in cagnesco con i cappucci sulla testa. Keep calm. Un grande abbraccio. Ci sentiamo presto. Proprio parlando di prima competizione, quale pensi sia il giusto approccio per entrare nel mondo dell'agonismo? Il giusto approccio non dovrebbe essere finalizzato all'agonismo. L'agonismo dovrebbe essere una tappa di passaggio, dovrebbe essere presa così, anche perché si spera sempre che la prima esperienza non sia anche l'ultima.